buonasera a tutti allora stasera che è il 19 settembre 2020 mi è venuto in mente in effetti già da oggi da stamattina mi è venuto in mente di mettere definitivamente i puntini su lei su questa storia del referendum il taglio dei parlamentari che da domani 20 settembre 2020 e il 21 settembre 2020 gli italiani andranno alle urne per votare sì o no sì o no ora io volevo mettere i puntini su lei su un video che ho visto ultimamente in internet di travaglio che diceva il titolo di questo video era i dieci motivi che sbugiardano no adesso e ora lo commento sbugiardo diciamo commento i suoi dieci motivi che che diciamo secondo lui sbugiarderebbero no e li commento e li critico lo critico travaglio lo critico non ho problemi e vedremo alla fine come la penserete incomincio dal secondo punto e vado avanti lasciando alla fine il suo punto numero uno quando vi dicono saremo ultimi in europa per numero di seggi in rapporto alla popolazione allora come vi ho detto iniziamo dal punto numero due del video di travaglio che si sottotitola saremo ultimi per numero di seggi in europa ammetto che io questo punto in questo punto inizia a mio modo di vedere confondere le idee travaglio parlando di un numero minore di seggi in europa personalmente non l'ho capito molto fa un po di confusione in questo punto qua e per me la modifica almeno in quanto ai numeri abbastanza chiara si parla di una diminuzione da 12 a 8 deputati e da 6 a 4 senatori per quanto riguarda la circoscrizione estera come la capisco io da da ignorante da cittadino che comunque sia si impegna a capire a studiare come la capisco io c'è una diminuzione nella circoscrizione estera quindi magari una diminuzione per quello che sono i parlamentari che lavorano diciamo all'estero almeno la vedo così e comunque sia non c'era motivo di diminuire questo numero tra parentesi poi andiamo avanti parlando della costituzione quella originale del 1948 nell'articolo 56 e 57 non vi era nessuna citazione a quella che è ora c'è la citazione dei dei seggi cioè comunque sia della della ripartizione dei seggi per i deputati e comunque non dice il numero dei seggi attualmente quella che come la come è detta ora l'articolo per esempio 56 non non dice il numero di seggi parla della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni e quindi poi a un certo punto dice che risulta che sarebbe si effettua dividendo il numero di abitanti della repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione per 618 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione allora a questo punto vi posso dire che facendo un rapido calcolo a me risulta che avremmo la ripartizione dei seggi in in un numero di 97.452 nel caso appunto attuale che abbiamo 600 che il numero sia appunto da dividere per 618 nel caso vincesse il sì avremo una ripartizione dei seggi per i deputati di circa 158.770 ora io onestamente questa parte non l'ho ben capita ripartizione dei seggi per 618 non mi è ben chiaro comunque sia tralasciamo se mai questo punto che sennò faccio anch'io un po di caos andiamo avanti e comunque i senatori e comunque questo punto qua nella nella costituzione originale cioè la ripartizione dei seggi non c'era non esisteva vi posso leggere quello che era per esempio l'articolo 56 originale la camera dei deputati è eletta su fragio universale diretto in ragione di un deputato per 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000 sono elegibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età finiva qua l'articolo 56 non vi si parlava di ripartizione dei seggi per i deputati diciamo questo numero che è uscito dopo di 618 che ora lo vogliono abbassare a 392 tutte modifiche come avete potuto vedere questo articolo e gli altri articoli che stanno modificando comunque l'han già toccati dicevo per il senatore si effettua in proporzione alla loro popolazione che comunque come dicevo avrebbe nel caso del sì la giunta della provincia autonoma ora io questa provincia autonoma la trovo un po un impiccio la trovo un po poco sensata questa giunta di provincia autonoma dopo le regioni nell'articolo nell'articolo appunto se vincesse il sì ci sarebbe un'aggiunta di questa di questa di queste di questa voce provincia autonoma per esempio la provincia autonoma di bolzano e anche la provincia autonoma di trento sono due province autonome separate ma fanno sempre parte della regione 38 adige che a me risulta a oggi mi pare che sono informato che le regioni sono sempre quelle non abbiamo cancellato regioni non abbiamo modificato regioni quindi perché anche lì diciamo in aggiungere questa provincia autonoma cosa c'è sotto non la trovo logico comunque perché se il motivo di questo referendum è il taglio dei parlamentari allora non hanno modificato solo il numero dei deputati e dei senatori nella costituzione come potete vedere hanno modificato altre cosette poi travaglio parla della proporzione di numero di parlamentari con gli abitanti facendo ancora più confusione a mio modo di vedere e dando i numeri come aveva fatto conte infatti conte giorni a dietro aveva detto erroneamente in un'intervista vi ricorderete è stato un video che ha girato un po parecchio sul web che diceva sosteneva conte aveva detto che l'italia aveva avuto 135 mila morti per il coronavirus sappiamo tutti che al momento appunto quando aveva fatto poco tempo fa quella dichiarazione in un'intervista di estaconte i morti per coronavirus erano ben 100.000 100.000 in meno erano 35.000 i morti attribuiti al coronavirus al covid-19 e qui travaglio travaglio parla di proporzioni sbagliate citando che la Germania e la Francia avrebbero 0,09 parlamentari ogni 100.000 abitanti è un numero sballato lo capiamo che non può essere così perché se fate due calcoli capite che qua ha sbagliato a dire o a leggere non lo so magari gli ha scritto male o lui lui magari se l'è scritto se l'è scritto lui il discorso quello che doveva dire come io mi sono scritto il discorso che mi sto dicendo magari ha sbagliato e ha letto ha letto magari di conseguenza in modo sbagliato comunque andiamo avanti ma poi io dico allora c'è gente magari come travaglio che studiano tanto e magari hanno almeno una laurea più di me io non ho lauree sono solo diplomato pensate un po' e poi devono incasinare tutto questo a tutta questa maniera perché non fare cose più semplici perché lui dice che in italia la proporzione se vincer sia di un parlamentare ogni 100.000 abitanti e attualmente sarebbe di mi pare 1,6 per 100.000 abitanti mentre in germania attualmente è di 0,9 per 100.000 abitanti ma non sarebbe forse più semplice dire che per esempio in germania che ha una popolazione mi risulta di 82.366.300 persone stando ai dati che ho preso da internet vi sono 709 deputati e quindi la divisione ci dice che c'è un parlamentare ogni 116.172 abitanti è tanto semplice invece di dire che c'è un che è un 0,9 ogni 100.000 abitanti cioè incasine le cose incasine le cose facciamo le cose semplici io sono una persona semplice e adoro le cose semplici gli italiani adorano le cose semplici infatti anche questo referendum l'avete incasinato modificando tanto di quegli articoli che bastava modificare quei due numeri cioè il numero dei deputati e il numero dei senatori che è quello che volevate fare noi voi no? Volevate tagliare i parlamentari e quindi i deputati e i senatori perché poi vi siete allargati a cambiare altre cose vuol dire che a quel punto lì questa modifica questo referendum per il taglio dei parlamentari non è fine a quello diciamo include magari qualcos'altro che non avete spiegato e gli italiani non hanno capito e quindi quando noi non capiamo mettiamo no almeno io metterei no come dicevo per esempio nel Regno Unito dove risulta che siano 67.545.757 abitanti con 650 deputati vi è un parlamentare ogni 103.916 abitanti attualmente in Italia stando alla popolazione che mi risulta dagli ultimi dati di fine anno sia 60.238.522 vi sarebbe con appunto i parlamentari attuali un parlamentare ogni 63.744 abitanti se vincesse il sì a quel punto vi sarebbe un parlamentare ogni 100.397 abitanti semplice no ragazzi? Non è così difficile andiamo al prossimo punto terza bugia ci sarà meno rappresentanza? Assolutamente no è chiaro che se si riduce il numero dei parlamentari ogni parlamentare conta di più se oggi conta 100 in futuro conterà 100 più il 36.5% del tasso il seguente punto appunto era il punto 3 ci sarà meno rappresentanza allora il fatto che diminuendo il personale per esempio in un ristorante oppure in un'industria cali il rendimento la qualità mi sembra scontato è ovvio che il ragionamento si basa con la stessa qualità di personale vi faccio un altro esempio che direi che lo capiscono forse ancora di più il mio concetto ci sono due squadre di calcio che hanno lo stesso tasso tecnico e i giocatori sono molto simili fra di loro come tecnica e fisicità per logica nessuna delle squadre prevale sull'altra la partita è molto equilibrata e magari è lì che staziona sul pareggio però a un certo punto verso la mezz'ora del primo tempo diciamo l'arbitro impazzisce ed espelle tre giocatori di una squadra cos'è che succede? Che una squadra si trova a giocare il resto della partita 8 contro 11 secondo voi com'è probabile che finisca la partita? io penso che la squadra con 11 giocatori possa prendere il sopravvento ed andare a vincere la partita abbastanza agilmente e magari anche con diversi reti in più dell'altra squadra sarebbe plausibile no questo? Travaglio qui in questo punto il punto 3 sostiene che questa cosa nel Parlamento sia un miglioramento anche qui ritengo che si sia a tratti smarrito come dire meno sono meglio è insomma dice che i parlamentari se vince il sì conteranno di più fa un ragionamento dicendo che i parlamentari contano 100 e se appunto tagliamo questi 345 parlamentari quindi c'è il 33% di parlamentari in meno e quindi quei 100 parlamentari conterebbero il 33% in più a me suona come ragionamento suona come quando Goku diventa Super Saiyan di secondo livello nel senso che a un certo punto sempre lui è però diventa più forte e in questa maniera è un po' come i parlamentari laggiù cioè te magari voti sì quei 345 vanno via ci sono quei 600 che rimangono uno di quei 600 è sempre il solito la testa che magari non capiva nulla non è che quando licenziamo quei 345 quello diventa un genio sempre Capra rimane è sempre persona che fa casini come magari ha fatto hanno fatto fino adesso e vediamo l'abbiamo visto negli ultimi mesi non è che diventa un genio e si trasforma in Super Saiyan non lo so supponiamo per un attimo di dar ragione a questo ragionamento di travaglio allora perché non tagliare 900 parlamentari lasciamone solo 45 a quel punto lì avremmo 45 parlamentari che sarebbero dei fenomeni avrebbero il controllo di tutto sarebbero assolutamente non si confonderebbero nella folla come diceva travaglio perché non ci sarebbe folla nel Parlamento ci sarebbero solo 45 persone magari 15 senatori e 30 deputati e nel frattempo vi ho anche lasciato la stessa proporzione che ci sarebbe nel caso vincesse sì che sarebbero stati 400 deputati e 200 senatori quindi un terzo del totale sarebbero i senatori in questo caso sarebbe uguale tagliamo 900 persone laggiù ne lasciamo 45 a quel punto lì io direi che probabilmente laggiù quei 45 diventano Super Saiyan di quarto livello diventano dei mostri vanno a distruggere metaforicamente tutto facciamo il mazzo a tutta l'Europa anche all'Africa alla Cina agli Stati Uniti lì Super Saiyan di quarto livello scherzi a parte ora questa era una battuta un po' così che ci stava perché mi piaceva che a un certo punto dopo ha detto travaglio che quel parlamentare acquisiva un 33% in più di valore così e quindi mi è venuto in mente che alla fine è un po' come Goku che diventa più forte quando diventa Super Saiyan però scherzi a parte sono serio quello che dice travaglio per me ha senso solo per lui e per i pentastellati andiamo al prossimo punto dicono che è un regalo all'antipolitica dei grillini vi ho già detto che tutti i partiti negli ultimi 25 anni dal centrodestra al PD e poi i 5 stelle che sono arrivati per ultimi hanno sempre avuto il taglio dei parlamentari nel loro programma eccoci allora il prossimo punto è il punto 4 dove dice che è un regalo all'antipolitica dei grillini allora lui qui travaglio ripete che tutti i partiti negli ultimi 25 anni e cita vabbè CD PD Forza Italia e poi anche il Movimento 5 Stelle hanno sempre avuto il taglio di parlamentari nel loro programma e nelle loro promesse e non l'ha mai fatto non si capisce come mai non l'hanno mai ottenuto strano che ora questa volta l'abbiano ottenuto i 5 stelle strana sta cosa peccato che comunque io mi ricordo mi ricordi che Di Maio aveva promesso di dimezzare lo stipendio dei parlamentari non aveva promesso nel 2018 di tagliare 345 parlamentari aveva promesso di dimezzare lo stipendio a tutti i parlamentari noi italiani stiamo aspettando quello non dopo che il referendum nel caso vinca al sì come ha chiesto Di Maio e a quel punto lì poi ci dice che taglierà i parlamentari e lo stipendio ai parlamentari prima poi se mai ne parliamo dopo del taglio dei 345 intanto prima tagliatevi tutti lo stipendio ma dimezzato come ho detto io nell'articolo precedente direi che potrebbe passare i senatori da uno stipendio che forse hanno io parlo di netto perché l'ordo pare che sia 18.000 ma di netto mi sembra che sono sui 14.000 ripeto sti numeri li ho presi da internet su per giù comunque è tutta una proporzionalità se è maggiore lo stipendio è maggiore poi anche il guadagno se si tagliano da quei 14.000 netti perché comunque sia circa 5.000 euro di stipendio base e poi ci sono gli indennizi e gli imporsi spese eccetera che aumentano di 7.000 quindi sono circa 12.000 euro netti se ti levi da quei 12.000 euro scendi a 8.000 ok a quel punto lì diciamo che potremmo anche andare d'accordo anche a 7.000 perché comunque mi sembra che i deputati ne guadagnano forse sui 12.000 barra 13.000 euro netti e i senatori forse sui 14.000 quindi facciamo come avevo detto da 14.000 i senatori vanno a 8.000 e i deputati da 12.000 13.000 vanno a 7.000 questa è la mia riforma è semplice quello che comunque aveva detto Di Maio nel 2018 in quella piazza promettendo cose che non ha mantenuto come appunto capo del movimento 5 stelle che poi è andato al governo così il Parlamento sarà più debole dicono assolutamente no sarebbe più debole se venisse bocciata una riforma costituzionale fatta dal Parlamento al 98% dei voti se uno lo vuole rafforzare il Parlamento il punto seguente è il numero 5 il numero 5 il sottotitolo sarebbe così il Parlamento sarà più debole allora nonostante quello che dica il signor Travaglio io credo che meno parlamentari è meno qualità che poi alcuni siano assenti disonesti o inutili al Parlamento quello fosse per me lo risolverei con la bocciatura mettiamola così con diciamo mandarli via dal Parlamento e sostituirli con persone all'altezza cioè persone che hanno voglia di fare onesti e capaci poi parla mi sembra delle liste bloccate a me sembra un po' una balla nel senso volere e potere se a un certo punto ci sono delle persone che che magari sono bloccate lì nelle liste e però non fanno niente di niente e sono inutili nel Parlamento io non avrei problemi a mandarle via come del resto anche tutti gli italiani sarebbero d'accordo con me ma quello dopo il taglio degli stipendi di tutti i parlamentari e comunque sia se vogliamo teniamoceli anche tutti però a quel punto lì dovrebbe venire al loro posto gente come dicevo competente volenterosa onesta e capace capace che ha voglia di fare punto successivo dicono serviva una riforma più ampia le riforme più ampie quelle che volevano cambiare mezza Costituzione o un terzo della Costituzione sono state bocciate dai cittadini i cittadini non vogliono riforme più ampie ne vogliono una piccola seguita magari da altre piccole per dire allora il punto successivo è il numero 6 serviva una riforma più ampia qua dice Travaglio che sarebbe diciamo uno dei punti a detta sua che che sarebbe uno dei dieci motivi che sbugiardano il no vabbè lui dice che il punto 6 il suo punto 6 serviva una riforma più ampia allora lui spiega che alla fine le riforme ampie agli italiani non piacciono le vogliono solo che praticamente non piacciono vogliono cose più diciamo più più semplici più più chiare più precise io direi è semplice come la vedo io non è come dice lui buttarla in cacciara no semplicemente è una cosa semplicissima Travaglio e tutti gli altri faccio un esempio un altro per far capire a tutti il mio ragionamento quello che aveva voluto fare almeno mi riferisco all'ultimo referendum mi pare comunque quello che aveva voluto fare Renzi nel 2016 mi pare era una serie di cambiamenti non era solo il taglio dei parlamentari che anche qua non è solo il taglio dei parlamentari perché dietro c'è anche qualche altra virgola che avete spostato ma era una serie di cambiamenti aveva fatto un unico referendum per dare la possibilità se vogliamo chiamarla così possibilità gli italiani di dire sì ci stanno bene tutti questi cambiamenti no non ci stanno bene gli italiani hanno detto no non ci stanno bene ma il punto non è che agli italiani non piacciono le riforme ampie il problema che agli italiani non piacciono le riforme ampie che hanno al suo interno delle fregature perché al suo interno quella riforma di Renzi aveva delle fregature è come vi faccio un esempio è come se se io vado a mangiare un piatto di minestra dove dentro ci sono tanti ingredienti per esempio le patate se vuoi mettici anche le mele e tutto il resto verdura eccetera magari ci si mette anche l'aglio supponiamo che io sia allergico all'aglio e mi dicono Gabriele ecco guarda la minestra c'è tanta roba dentro però la mangi no ti piace io ti dico sì la mangio scusa però cosa c'è dentro eh c'è questo 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 c'è anche l'aglio e io ti dico no scusa non posso perché l'aglio io magari sono allergico mi fa male quindi io rifiuto tutta la minestra perché un ingrediente non andava bene la riforma che aveva fatto Renzi è la stessa il problema di Renzi era lo stesso Renzi poteva aver fatto anche un bel minestrone magari forse di quei non mi ricordo sei ingredienti cinque potevano andare bene agli italiani però bastava anche solo un ingrediente che non andava bene agli italiani per dire vedi il piatto della minestra Renzi te lo mettiamo lì sul poggiolo magari lo buttiamo giù alla finestra abbiamo detto no è così non è questione della riforma ampia se agli italiani gli metti davanti un bel piatto di minestra con tanti ingredienti tutti ingredienti che gli piacciono e gli fanno bene agli italiani alla salute che non gli fanno male alla salute perché a volte il problema è quello voi laggiù fate dei minestroni che con degli ingredienti fatti apposta a farci male andiamo avanti al punto successivo dovevano altra balla ridursi lo stipendio anziché le poltrone ma una cosa non esclude l'altra soltanto che per tagliare il numero dei parlamentari ci vuole una legge costituzionale e per tagliare gli stipendi non ci vuole nemmeno una legge ordinaria basta una delibera degli uffici di presidenza della camere del senato come per il taglio dei vitalizi certamente se si taglia il numero dei parlamentari il punto seguente al 7 dove viene sottotitolato dovevano ridursi lo stipendio anziché le poltrone e beh cavolo quello è quello che aveva promesso Di Maio quel giorno mi sembra marzo 2018 quando chiedeva il voto agli italiani in cambio avrebbe ottenuto il dimezzamento non il taglio il dimezzare lo stipendio a tutti i parlamentari che è ben diverso dal taglio il dimezzare il taglio dei vitalizi e poi di risparmiare mi sembra 30 miliardi da dare a famiglie con figli che facevano figli disoccupati eccetera ora comunque il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari e se vogliamo anche il stipendio totale incluso in borsa e tutto il resto non è avvenuto è quello che siamo qui oggi siamo qui oggi per quello ora il problema è che gli italiani vogliono proprio quello il taglio degli stipendi di persone che anno dopo anno dimostrano di non meritare i soldi che ricevano non facciamo tutta di un erva in fascio però laggiù sostanzialmente il parlamento agli italiani negli ultimi mesi ci ha deluso poi comunque vi farò un esempio con i colleghi austriaci parlamentari austriaci comunque il loro guadagno dopo più là poi comunque quello che dice Travaglio è l'ennesimo secondo me Autogol in questo punto il punto numero 7 dice per tagliare gli stipendi basta una delibera degli uffici della Camera e del Senato come per il taglio dei vitalizi cavolo ma è così semplice è veramente era così semplice ma allora scusa ma se è così semplice è strano che allora questi stipendi il Movimento 5 Stelle non li abbia dimezzati come promesso già da tempo non io non riesco a capire voi italiani capite sta cosa come la mette Travaglio la mette tanto in modo semplice che sembra quasi che basti una lettera dalle camere per dire ok ci tagliamo lo stipendio ma allora a quel punto lì volere potere non vogliono e non lo fanno poi che poi ribadisco che è strano forte un Parlamento che ha votato per il taglio di un terzo di loro e non gli va bene salvare quei 345 dimezzando lo stipendio di tutti insomma direi che facendo un altro esempio è come se una ditta che naviga in cattive acque gli operai invece di accettare la riduzione dello stipendio per esempio da 1800 euro a 1200 euro e mantenere tutti i posti di lavoro diciamo tutti che rimangono al lavoro in quella ditta preferissero mantenere i loro stipendi invariati e far licenziare un terzo dei loro colleghi magari anche loro stessi in quel terzo di persone direi che sarebbero degli operai e quegli operai sarebbero proprio delle merde che dite comunque a meno che gli operai licenziati non abbiano già un lavoro pronto per loro a quel punto lì sarebbe una sorta di escamotage una sorta di finta dai licenziamo in quella ditta un terzo di operai intanto sappiamo già che comunque un'altra ditta la stanno aprendo e quindi ci buttiamo quel terzo di operai nell'altra ditta loro gli operai che rischiavano di perdere il posto lo sapevano quindi non si lamentano neanche oppure che magari alcuni di quegli operai che rischiano licenziamento ormai stiano andando in pensione quindi gli promettano un buono uscita una roba del genere andiamo al punto successivo otto questa è la balla numero otto è la più bella il risparmio è un misero caffè a testa è meno di un caffè per ogni italiano ma che paragoni sono se io punto successivo è il punto numero otto dove appunto qui lo sottotitola risparmio è un misero caffè ma allora di maio forse dando i numeri come conte parla ho letto in internet che parla di 100 milioni di risparmio annui 100 milioni di risparmio annui noi siamo in italia 60 milioni super giù ok alcuni comunque invece sostengono che il risparmio sia molto più basso circa la metà c'è chi sostiene che sia 80 c'è chi sostiene che sia 50 60 milioni questo risparmio e io sono abbastanza d'accordo più che sia risparmio reale sui 50 60 milioni quindi in effetti è così il risparmio è un misero caffè se il risparmio è 50 60 milioni e noi in italia siamo circa 60 milioni vuol dire che in un anno noi se non prendiamo un caffè lasciamo lì al parlamento quei 345 parlamentari a me non mi costerebbe a questo punto un granché lasciarli lì mi farebbe piacere ovviamente sempre che quelle persone poi facciano il loro lavoro e come dicevo prima siano capaci volenterosi e onesti comunque parlando sempre di sprechi ma poi chi è che mi sa dire quanto costa all'italia questo referendum ho fatto due ricerche e risulta che nel 2016 si vociferava che il referendum fosse costato 300 milioni 300 milioni ora noi stiamo a parlare di risparmiare 50 o 100 milioni ad anno vuol dire che praticamente hanno buttato via per il referendum del 2016 di Renzi il risparmio di a detta di Di Maio il risparmio di tre anni ha detta magari come direi io circa 60 milioni mettiamo 6, 12, 18, 24, 30 risparmio di 5 anni quindi di una legislatura si chiama così mi pare quindi di cosa stiamo parlando si vocifera sempre che il costo di questo referendum perché c'è il covid virus e tutto il resto vada oltre i 300 milioni magari i 350 milioni chissà quindi ripeto a me non riesco a capire alla fine la logica di tutto questo comunque appunto tutto questo caos per un ulteriore spreco come vi ho detto di milioni e milioni per fare un referendum che poi probabilmente come penso giusto che sia sarà votato no perché noi vogliamo il taglio dello stipendio del parlamentare non il taglio dei parlamentari poi quello semmai dopo intanto tagliatevi a metà dimezzatevi come diceva Di Maio lo stipendio a tutti i parlamentari strano che comunque tutto sto caos appunto quando appunto bastava una delibera dagli uffici della Camera e del Senato per il taglio dei loro stipendi quello quello che diceva Travaglio al punto precedente mi sembra e non niente poi ah sì qua Travaglio qui Travaglio fa degli esempi incoerenti con quello che è l'argomento fa fa un esempio tipo risparmiare il 7% in un anno alla fine sono soldoni ma a quel punto lì è sproporzionato non è coerente perché come ho fatto l'esempio io ieri della cena è come se io risparmio a cenare 5 euro perché non mi prendo la bottiglia di vino ma io voglio la bottiglia di vino mi serve la bottiglia di vino magari il risparmio reale sarebbe che invece di prendere il piatto di pasta da 13 euro prendo il piatto di pasta da 10 euro invece di prendere la bistecca da 13 euro prendo la bistecca da 10 euro e a quel punto lì posso prendere la bottiglia di vino da 5 euro e magari mi avanza anche un euro andiamo avanti vincono la destra e il presidenzialismo se vince il sì ma in quale in quale testo c'è scritto numero 9 qua cerco di andar veloce mi tengo bello pimpante per l'ultimo punto che come vi avevo detto è il primo punto il numero 1 ma ora il punto numero 9 era vincono destra e presidenzialismo io qua onestamente non so cosa dire non l'ho mai fatta su un discorso questo referendum su un discorso destra-sinistra quindi alzo le mani mi sono già spiegato abbastanza fino adesso andiamo avanti al punto numero 10 decima e ultima balla avremmo un sistema oligarchico eccoci allora punto numero 10 avremmo un sistema oligarchico allora a quanto mi risulta l'oligarchia è il governo di pochi ok non direi che ridurre il numero di parlamentari da 945 a 600 sarebbe il governo di pochi a meno che poi di quei 600 parlamentari magari ci troviamo con 400 dei 5 stelle a quel punto si sarebbe oligarchico termino dicendo che valesse in parlamento il detto pochi ma buoni potrei essere d'accordo ma il problema che è stato dimostrato più volte è che a Roma non ci sono molti esperti si definiscono tali ma poi sono veramente limitati quindi direi che l'unione fa la forza e magari a questo punto se non dimostrano di saper fare come per esempio un bravo muratore il lavoro da solo è ovvio che a quel punto lì ha bisogno di un aiutante quindi come in tutti i lavori se uno non è bravo e non si sa sbrigare da solo ha bisogno di un aiutante e laggiù penso che qualche aiutante in più servirebbe ripeto che sia capace volenteroso a questo punto quando vi dicono si sfascia la Costituzione non è vero niente e la Costituzione questo numero di parlamentari 945 non l'aveva fissato eccoci ho lasciato di proposito per ultimo il punto numero uno perché trovo che ha iniziato Travaglio il signor Travaglio col botto con un punto intitolato si sfascia la Costituzione del 1948 intanto la Costituzione è stata già sfasciata purtroppo negli anni passati perché come penso sapete gli articoli in questione e sicuramente il direi che sicuramente il 56 e il 57 sono stati già ritoccati come vi ho detto prima e il signor Travaglio quando dice la Costituzione questo numero di parlamentari 945 non l'aveva fissato è questa la ciliegina sulla torta perché allora intanto l'attuale Costituzione lo fissa come il numero di parlamentari perché è la somma dei deputati che appunto l'articolo 56 definisce e stabilisce che sono 630 e la somma appunto dei senatori che sono nell'articolo 57 dice che sono 315 quindi 630 più 315 arriviamo a 945 quindi attualmente la Costituzione stabilisce il numero dei parlamentari ma forse lui Travaglio oltre che giornalista e opinionista si è calato anche nelle vesti di storico e è andato un po' nel passato a rispolverare quella che era la Costituzione addirittura del secolo scorso del 1948 che poi è stata ritoccata come vi ho detto non saprei ora dirvi quando è che è stata modificata quegli articoli 57 e 56 come li vediamo adesso comunque sono stati modificati più volte comunque poi vi farò vedere un attimo vi sto facendo vedere la Costituzione di quella che era ai tempi per esempio l'articolo 56 e 57 come appariva prima che fosse modificata e risultasse quella che è adesso ma in effetti la Costituzione nel 1948 non fissava i parlamentari nel numero di 945 su quello magari c'ha ragione se vogliamo essere pignoli usare le sue parole c'ha ragione la Costituzione questo numero di parlamentari 945 non l'aveva fissato se parliamo della Costituzione del 1948 quella originale diciamo ma era piuttosto chiara nel dire che erano proporzionali al numero di abitanti come a far intendere che chi fece la Costituzione pensava giusto avere un numero maggiore di parlamentari all'aumentare della popolazione per esempio per esempio come diceva prima non mi ricordo quando Travaglio che in Cina dice che ci sono 3000 mi pare parlamentari è ovvio che ci siano ben più parlamentari di noi anzi in proporzione alla popolazione della Cina i parlamentari sarebbero anche pochi in proporzione alla nostra proporzione perché noi che siamo 945 parlamentari siamo 60 milioni mettiamo che mettiamo che vinca al sì speriamo di no e sono 600 parlamentari 60 milioni vuol dire che ci abbiamo un parlamentare ogni 100.000 abitanti loro che ci hanno 3000 parlamentari però sono un miliardo e mi pare 4 è ovvio che la proporzione è assai più più bassa fatevi due conti comunque dicevo andiamo avanti con un veloce calcolo più preciso possibile considerando che gli abitanti nel 1948 erano circa 47 milioni perché i dati dell'Istat mi dicono che nel 51 erano 47 milioni 700 mila quindi ho arrotondato per difetto che nel 48 potevano essere 47 milioni gli abitanti in Italia ok quindi arriviamo a capire che quando nasceva la Costituzione i deputati stando alla proporzione che era scritta nell'articolo originale della Costituzione del 1948 i deputati dovevano essere circa 587 perché era uno ogni 80 mila abitanti mentre i senatori dovevano essere circa 235 perché era uno ogni 200 mila abitanti se quella parte di Costituzione fosse rimasta invariata con quella proporzione ad oggi che abbiamo 60 milioni e 238 522 abitanti appunto i dati dell'Istat rispetto a riferiti alla fine del 2019 dovremmo aver avuto 752 deputati perché uno ogni 80 mila abitanti e 301 senatori quindi ogni 200 mila abitanti stando a quella che era la proporzione della vecchia della vecchia Costituzione prima che la ritoccassero e diciamo la sfasciassero perché l'hanno già sfasciata per certi versi riassumendo la Costituzione ha sempre specificato quanti parlamentari ci dovevano essere quindi travaglio che sia scritto in numeri ben definiti come adesso o che sia da ricavarli da una semplice divisione l'aveva definito l'aveva fissato quanti dovevano essere ovvio che magari non erano 945 però non troviamo il pelo nell'uovo quindi direi che con questo ho concluso il mio video sul su come ho contestato il video di travaglio intitolato 10 motivi che sbugiardano il no e io diciamo che forse in parte ho sbugiardato i 10 motivi di travaglio che sbugiardava il no insomma vabbè comunque io direi come la vedo io quello poi fate voi nel senso che ripeto prima diciamo a Di Maio che prima faccia quello che aveva promesso e che ora ci quasi ricatta dicendo se voi votate per il sì io poi di mezzo lo stipendio ai parlamentari a parte che ora non ha detto più non usa più la parola di mezzo ma ha detto taglio e taglio può essere come ho detto l'altra volta qualsiasi cosa uno stipendio di 14.000 euro puoi tagliarlo puoi tagliarlo solo di 2.000 euro non ci si guadagna molto come dicevo io un 14.000 euro mi dispiace ma deve andare a passare è una grande diminuzione ma passare a 8.000 euro e termino con questa cosa con quello che vi dicevo prima di parlare dei colleghi austriaci parlamentari austriaci ebbene appunto il problema dello stipendio non è base lo stipendio base non è tutto infatti quello che farebbe muovere l'ago della bilancia sarebbe più che altro il rimborso e le diarie perché come abbiamo visto i rimborsi e le diarie sono soldoni oltre allo stipendio per esempio in Austria un semplice parlamentare guadagna all'incirca 4.500 5.000 euro netti rimborsi inclusi al mese tutto incluso al mese perché il loro stipendio base netto si aggira intorno ai 4.200 euro e fin qua non c'è una gran differenza perché il stipendio dei parlamentari in Italia si aggira intorno ai 5.300 euro 1.000 euro ebbene 1.000 euro comunque già levare quelli io sarebbe già una bella moltiplicazione che porterebbe allora facciamo 945 per 1000 sono 945 mila per 300 per 12 945 mila per 12 sono 9 milioni e mezzo insomma 10 milioni e mezzo così solo per levare 1.000 euro ma comunque andiamo a veramente fare un discorso serio ancora più serio in Italia lo stipendio base netto è appunto come vi ho detto poco superiore ai 5.000 euro all'incirca 5.300 euro però poi ci sono la diaria rimborsi e cose varie che fanno lievitare di altri 7.000 euro questa cifra quindi loro i deputati i senatori guadagnano dai 12 ai 14.000 euro netti lordi sarebbero circa 5.000 euro in più sarebbero circa 17 19.000 euro a quanto ho letto un giro in internet e comunque tutto proporzionale se fosse di più se tagli appunto di mezzi lo stipendio e il guadagno è maggiore tutto proporzionale ragazzi direi che sono abbastanza inattaccabile poi se vi volete attaccare attaccatevi quindi capite bene che con il taglio dei 345 parlamentari si risolve poco probabilmente si vuole risolvere quello che vogliono risolvere il governo 5 stelle insomma il movimento 5 stelle e cioè magari qualche cosa che sotto sotto non sono in grado ancora di capire non ho capito non ho le basi di capire e voi magari non ci avete neanche pensato a quella cosa ripeto se volevano tagliare semplicemente il numero di parlamentari bastava che modificassero solo due articoli il 56 e il 57 modificassero solo due numeri da 630 a 400 e da 315 a 200 punto tutto il resto penso che sia una cosa torbida che possa celare dei trabocchetti che poi ci ritroviamo a seguito come le cose che hanno fatto in passato i predecessori ce le stiamo ritrovando oggi un po' come magari il il danno del coronavirus del covid di mesi fa magari ce lo ritroviamo l'anno prossimo economicamente parlando io sto parlando niente spero di essere stato chiaro maggiormente preciso e vi do un vi saluto tutti e mi raccomando cercate di capire usate la testa e per certi versi di solito uno se non capisce quello che è davanti scritto dovrebbe in teoria non firmarlo almeno così si fa con i contratti o è nel caso di andare a votare uno dovrebbe negare quello che sta andando a votare cioè no nel senso vuoi il taglio dei parlamentari se non capisci bene cosa c'è dietro cos'è esattamente e io un po' di discorsi ve l'ho fatto in questi tre giorni uno dovrebbe secondo me mettere no però vabbè fate un po' come volete vi auguro una buona giornata a tutti ormai qua è sera quando ho finito questo video ma probabilmente lo condivido domani mattina 20 settembre quindi lo vedrete chi di voi lo vedrà subito magari lo vedrà già a giornata iniziata sicuramente e magari forse avrà magari anche già votato diciamo che oggi è il 19 domani è il 20 facciamo che vi do anche vi faccio anche gli auguri di un buon autunno siccome il 21 settembre mi pare che inizia l'autunno un saluto a tutti e a presto di un buon autunno